Due omicidi svelati e altri che potrebbero esserlo presto. In carcere ieri sono finiti Salvatore, Vincenzo e Giovanna di Pisa, fratelli e sorella, e il figlio di quest'ultimo, Calogero Marretta. Sono accusati degli omicidi di Giovanni Filippello e Vito Damiano, avvenuti nel 1992 e nel 2007. Nei nastri magnetici degli investigatori però si fa riferimento anche ad altri possibili delitti risolti. Frasi inquietanti, captate dagli investigatori che sono confluite nel fascicolo dell'inchiesta, sfociata ieri nelle ordinanze di arresto, assieme a quelle che vengono definite delle confessioni indiretta. Una è della sorella che, come si legge nell'ordinanza, si rivolge alla figlia e racconta che in caserma dai carabinieri aveva accusato il fratello Salvatore dell'omicidio di Filippello. Era il 17 gennaio del 2015 e i due fratelli si trovavano nella caserma di Prizzi. Quel giorno la sorella aveva denunciato un'altra per violazione di domicilio. Nel corso della denuncia, parlando con un maresciallo, pur rifiutando di verbalizzare, aveva raccontato al militare che Salvatore di Pisa accompagnò il fratello Vincenzo sui luoghi dell'omicidio, che fu Vincenzo a sparare a Giuseppe Filippello e che lei si trovava in casa di Salvatore insieme all'ex fidanzata. La donna raccontò che i due fratelli tornarono tardi e Vincenzo aveva pure le scarpe sporche di fango. Erano tornati tardi per via dei posti di blocco. Fu proprio questo racconto a far riaprire le indagini sull'omicidio che erano state precedentemente archiviate e che hanno portato alle ordinanze firmate adesso dal Tribunale di Termini Merese. Non solo, ma la donna aveva affidato anche ad un'agenda le sue paure e le minacce di morte ricevute dal fratello Vincenzo che le avrebbe voluto chiudere la bocca per paura che lei potesse raccontare quello che sapeva. Anche per l'omicidio di Vito Damiano avvenuto nel 2007 per riaprire le indagini sono state fondamentali le intercettazioni delle conversazioni della sorella.